È la fine dell'anno e come ci viene abbastanza naturale, ci fermiamo un attimino a pensare all'anno appena passato, a quello che è successo, a quello che abbiamo imparato, con uno sguardo poi nel 2022 per cercare di inquadrarlo un attimino e cercare di essere meno terrorizzati dal futuro imprevedibile. Benvenuti a tutti signori in questo nuovo video, io sono Francesco Buzzi, trader-investitore-founder di Batsway.it e questo è il video di fine anno in cui, appunto, mi sono preso un po' di appunti, seguiremo questo filone del che cosa è successo, che cosa ho imparato e cosa succederà nel 2022 in questa fusione strana che è Francesco Buzzi e Batsway, che ogni tanto non si capisce neanche che sono due cose diverse e ogni tanto invece lo si capisce un pochino meglio. Ovviamente vi invito a commentare rispetto a quello che ho detto, se siete d'accordo, se siete in disaccordo, cosa ne pensate, è un video molto importante per il quale avere la vostra risposta, quindi ci tengo moltissimo e direi di partire subito dopo. La sì. Come dicevo, io mi sono preso un pochettino di appunti, quindi ogni tanto guarderò il foglio che sto tenendo davanti agli occhi e il primo blocco è il... che cos'è successo? Ricapitoliamo un pochettino i passi di questo 2021 molto strano. Partendo dal presupposto che a gennaio del 2021 Batsway non c'era. Ebbene no, non c'era affatto perché, a causa della lentezza burocratica tipica italiana, che è uno stereotipo, però alla fine della fiera spesso è così, quindi è uno stereotipo che si autoavvera, Batsway è stata creata ufficialmente a febbraio, anzi metà febbraio addirittura. E questa è una gran cosa, è una gran cosa, è un grande passo che ho deciso di fare perché, come sapete, tutto ebbe inizio 31 anni... no, scherzo. No, tutto ebbe inizio dal 2017, quando ho iniziato a fare il trailer full time, no? Un anno dopo ho iniziato un po' a divulgare quello che facevo, con video prima... divulgativi proprio, su cosa fanno gli altri, su cosa faccio io, sul mio metodo, e poi si sono trasformati, tutto questo percorso, tutti questi video si sono trasformati in percorsi formativi. La gente giustamente mi chiedeva, sì ma dimmi di più del tuo percorso, dimmi di più del tuo processo, della tua strategia, e mi è venuto bene farlo. Però fino al 2020 ero praticamente da solo, ero solo assistito da Omar, che molti di voi conosceranno, il consulente di fiducia a Bazzi, ma poi ero da solo. Ed era un po' difficile dopo un po' stare dietro, perché la risposta era tantissima, era clamorosa, anche in termini di risultati, il 2020 è stato molto positivo, e quindi a fine 2020 dovevo cercare di capire che cosa fare. Stare nella mia dimensione, semplicemente tornare un pochino indietro, e riprendere in mano un po' i ritmi e le cose, no? Perché era anche difficile da solo avere un equilibrio perfetto tra quello che faccio normalmente, per vivere, trading, investing, studi, eccetera, e quello che faccio poi per la divulgazione. E alla fine ho deciso, dopo qualche pensata, a fine del 2020, di nel 2021 aprire Bazzi, e mi sono preparato assumendo persone. E quindi è nata ufficialmente Bazzi, anzi, tecnicamente il nome Bazzi è nato a fine 2020, ma la SRLS effettivamente è nata a febbraio del 2021, un'azienda italianissima, meravigliosissima, che traccia record su record, e che se gli sta facendo valere, ok? È e sempre sarà un'azienda italiana, questo ci tengo a dirlo, senza alcun problema nel merito, ok? La gente che va a Dubai, Panama, Costa Rica, Estonia, Malta, l'azienda Bazzi rimane sicuramente in Italia. E questa è una cosa che mi fa molto piacere, devo essere sincero. Ovviamente abbiamo sputato fuori alcuni nostri progetti, alcune nostre idee, alcuni nostri sviluppi, ad esempio a giugno abbiamo fatto il botto, perché abbiamo deciso di pubblicare un lavoro su cui ero, su cui stavo lavorando, su cui stavo progettando, che stavo usando live da almeno un anno, che era lo Skyhook, giugno 2021, vi ricordate Skyhook? Skyhook è un composer, cioè è un codice che permette di creare centinaia di altri trading system, che però in questo caso aveva la particolarità, non solo di essere un composer, ma anche di essere un composer molto particolare, molto speciale, con uno studio dietro, dal mio punto di vista, sofisticato. L'ho fatto io, e viva il mio ego, ma questo è. Infatti è stato capito, è stato capito, è stata premiata, dal mio punto di vista, è stato premiato un insieme di cose, l'inventiva, l'innovazione e la ricerca, perché è qualcosa che non si era mai visto prima, è qualcosa che avevo studiato nel tempo, in modo totalmente casuale, cioè se devo pensare a che processo mentale ho avuto per tenere fuori Skyhook? Non lo so neanche dire, semplicemente testando, come dico io, spippolando, è venuto fuori, e l'ho reso prima utile per me, e poi dopo un anno l'ho reso utile per tutti, è stato molto apprezzato. E sono molto contento, perché è un tratto distintivo, il fare cose nuove, ricercate, non seguire lo standard, investire nell'innovazione, nel capire di bazio, no? È un po' un pilastro di bazio, e questa cosa mi fa molto piacere, devo essere sincero, anche perché noi ricordiamo che i mercati sono sempre gli stessi, ma il nostro approccio ai mercati, e come gli strumenti cambiano sui mercati, appunto cambiano nel tempo, quindi è sempre importante stare pam 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 pam, sul pezzo a innovare, eccetera eccetera. Altra cosa, secondo me, rilevante, nel 2021, è stato il primo corso di mindset applicato alla finanza. Il primo. Punto. Cioè non c'è tanto... È il primo corso di mindset applicato alla finanza. È uscito a settembre del 2021, ero in giro tra Panama e gli Stati Uniti, è un corso che ho scritto effettivamente a Panama, ma per il quale io ho studiato anni, perché è un tema che mi fa impazzire, quello dell'economia comportamentale, mi fa veramente, mi trascina veramente una cosa pazzesca, e questo poi segnerà, andiamo a riprendere tra le cose che ho imparato, un altro tratto distintivo di Batsway. Però ne parliamo dopo. A livello di innovazione, di cose nuove che abbiamo fatto, il primo corso di mindset in Italia è stata una pietra miliare, mica da ride. Per tornare alla fusione tra me e Batsway, che sono io però in un'azienda, ci sono stati tre mesi di viaggio. Dal 4 agosto al 4 novembre, 3-4 novembre, sono stato a Panama e negli Stati Uniti. A Panama 21 giorni, dovevo stare un pochino di meno, per problemi di... non erano ancora aperte le frontiere degli Stati Uniti, quindi sono stato un pochettino di più, ed è stata un'esperienza clamorosa, meravigliosa, puntacciame nel cuore, spero di tornarci presto. E poi ho fatto due mesi e mezzo negli Stati Uniti, da mia sorella a New Mexico, e lì ho girato parecchio, ho visto parecchio. È stata veramente un'esperienza intensa, e che mi ha permesso di guardare la mia realtà da fuori. non so se è chiaro il discorso, ma fare tre mesi in due realtà completamente diverse da quelle italiane, tra Panama e Italia ci sono delle similitudini, ma il mondo è completamente diverso. E tra gli Stati Uniti e l'Italia ci sono delle similitudini rispetto ad esempio a Panama, ma il mondo è completamente diverso. È stato illuminante, non so come dire. e non sono potuto permettere, è stata una cosa che mi è piaciuta particolarmente. Poi tornato in Italia ho avuto un po' di... Oddio, ma il tempo a Milano è questo. È stata una roba... Ho avuto una settimana, due settimane, in cui ho pensato, sì ma io stavo al caldo. In New Mexico ci sono tipo 300 giorni di... 330 giorni di sole, aria secca, zero umidità, meravigliosa. Sono tornato, nebbia, pioveva, la prima settimana in cui sono tornato, pioveva, nebbia, freddo, umido, schifo. Ma no, ma com'è possibile? Però poi siamo partiti con lo sprint finale, abbiamo lanciato un pacchetto di sistemi contro le crisi, i mercati, quindi trading automatico applicato alla copertura di portafoglio con il Mobivix, eccetera. Abbiamo un po' anche approfittato del backfiler, e poi abbiamo fatto la chiusura del 2021 con i migliori sistemi, è stato un bel tour de force, devo essere sincero. Bene, bello sprint finale per chiudere l'anno in bellezza. Compendio, leggo quello che ho scritto, è stato il mio anno più difficile, eppure forse il più bello. È stato un anno terrificante, dal punto di vista personale, terrificante, e ci ricolleghiamo fra poco a questa cosa qua, però è stato meraviglioso, dal punto di vista proprio di sfide che ho affrontato e che ho vinto dal mio punto di vista, risultati ottenuti, il mio miglioramento personale, io sono convinto che non arriviamo mai da nessuna parte, è un percorso, non sei mai nessuno, sei nel momento in cui ti misuri, ma poi domani sei una persona nuova, perché fai nuove esperienze, conosci nuove persone, vedi nuove cose, impari nuove cose, ecco, questo tipo di percorso nel 2021 è stato folle, l'ho fatto a una velocità folle, e mi è piaciuto tantissimo, quindi anno terrificante, da un certo punto di vista, e meraviglioso, da un altro punto di vista, quindi grande varianza nei risultati, alta volatilità, però lo apprezzo. Cose che ho imparato, cose che ho imparato, vabbè, il mio lavoro è semplicemente spendo, questa è una cosa che ogni tanto mi scordo, ma il mio lavoro è semplicemente spendo. Oggettivamente io non ho fatto un giorno, quest'anno, in cui ho mal sopportato quello che avrei dovuto fare in giornata, in cui non ho sopportato il lunedì, in cui mi sono detto, ma perché? Mai, mai, anzi c'è gente anche che si è nervosita, sotto i video di YouTube, del lunedì, perché dicevo, ah è lunedì, è una nuova settimana, pam 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 pam, e ho capito, ma io sono felice che sia lunedì, il weekend mi fa piacere, perché mi riposo, ma in settimana, ricomincio il mio lavoro, quindi io sono felice con una Pasqua, e questa cosa ogni tanto me la scordo, ed è una cosa che mi sono insegnato, tra le cose che ho imparato, cioè l'apprezzare il mio lavoro, che non è così quadrato come pensate, però è meraviglioso. Un'altra cosa che ho imparato, lo studio non finisce a scuola, io tanti sento parlare di, ma che titolo hai tu per parlare? E nessuno, io non sono laureato, ok? Questa è una cosa che a molti fa piacere, perché sentono che quello che si può fare sui mercati, a livello di finanza, intesa come trading, e investimenti, è la loro portata, e ad altri invece non fa piacere, perché pensano che il titolo sia portatore di verità. Alcune volte è così, altre volte non è così, no? Ciò che secondo me è importante capire, è che non ci si ferma mai. Cioè non c'è un momento in cui, boom, ok, ho studiato questa roba, adesso la so, non la studio più. non esiste. Il mondo continua a cambiare, e cambierà sempre. È un cambiamento poco percettibile, perché non lo viviamo da dentro, no? È un po' come cercare di capire a che velocità si muove la Terra, ma ci viviamo sopra, la Terra è enorme, non la capiamo, cioè non stiamo vedendo che si muove a centinaia di migliaia di chilometri all'ora, se rapportato, dal punto di vista relativistico, è di velocità relativa al centro della galassia. Perché siamo troppo vicini? Ma il mondo cambia e cambierà sempre, ragazzi. Sempre bisogna studiare. Ma non dico sui libri, sottolineo, prendo note, ma interessarsi, leggere, fare link mentali, approfondire, esercitare la curiosità, si farà sempre. Quindi non ci fermiamo, non ci fermate al discorso di titoli delle lauree e non lauree, o di mille lauree. Le mille lauree sono positive nel momento in cui tu le hai prese e applichi questa conoscenza e la colleghi a tutto il resto della vita. Se invece è negativissima, se ti fermi, ho le lauree e adesso mi dovete ascoltare. Magari hai studiato da che anni? Magari hai dimenticato tutto. Magari hai studiato in modo, in modo da pappagallo. Quante persone ho conosciuto così, no? Altro piccolo vanto, io sono sempre stato un pessimo studente, ma me lo sono sempre cavata, sempre mai bocciato, eccetera, perché capivo il messaggio. Evitavo di studiare e ripetere tutto a memoria, che tanto mi annoiavo, pessimo studente, figurati. Ma capivo il messaggio, me la sapevo cantare su e capivo i collegamenti. Ecco, dovete capire i collegamenti, piuttosto che guardare i titoli, le lauree, non lauree, o quante volte sei stato in tv tu per parlare di sta roba. Ma che cavolo vuol dire? La tv verifica le tue competenze prima di parlare. No, quindi, ecco. Altra lezione imparata. La qualità e l'innovazione portano sempre risultati. Il nostro successo pazzesco di Batsway, ed è un successo pazzesco, ve lo posso garantire, da ogni punto di vista, è dovuto a quello, secondo me. È dovuto al fatto che abbiamo avuto il coraggio e ci siamo costruiti le basi affinché il nostro lavoro fosse fatto di cose non prestabilite, di innovazione, di magari prendere un concetto comune, il trading automatico, e prenderlo però da un'altra parte, da un altro punto di vista, in modo diverso, non forzatamente diverso, ma diverso perché funziona, tipo mettere lo scrocchiarello. Ok? Il trading automatico esisteva già, i trading system esistevano già, ma fare qualcosa di nuovo, innovativo, e costa, ed è pericoloso, è rischioso. Ogni volta che presentiamo una nuova operatività, nuova per voi, è rischioso, e se è sempre fatto così, noi lo facciamo diversamente. È complicato da spiegare. O come... gli investimenti in azioni. Tutti i più grandi esperti fanno questa roba qua di valutare le aziende a dieci anni, e prendere il prezzo corretto, quindi valutare se comprare o no un'azione adesso, se è sopravvalutata o sottovalutata. Noi siamo usciti con un corso che diceva è una cavolata pazzesca. Tutti gli studi statistici lo affermano, ma noi li abbiamo messo in un corso dicendo attenzione che quelli là dicono cavolate. Secondo me è coraggioso, questa cosa mi fa molto piacere. Secondo me è anche una parte dell'elemento del successo di Bazzi. Altra cosa, non ci accontentiamo di dare ciò che il mercato chiede. Un esempio. A me basterebbe tanto così per andare in Svizzera o a Cipro a fare un servizio segnale di copy trading con i miei sistemi. Io farei i milioni. I milioni. Ok? Basta vedere Toro, e Toro col copy trading che è successo avuto, io farei i milioni. Ok? Perché il mercato chiede questa roba qua, chiede il prodotto fatto e finito, chiede la cosa facile, veloce, pam pam pam, studiare poco, per favore, diventare ricco subito, grazie, senza sforzo, grazie. E invece abbiamo scelto la strada più difficile. Abbiamo presentato un percorso sul mindset, sull'economia comportamentale, basata su cent'anni di studi complessi, per me intrigantissimi, ma complessi. E, oh, ragazzi, io lo ammetto, il corso sul mindset ha avuto meno successo di altri percorsi che abbiamo presentato. Perché è quello che il mercato necessita, non quello che il mercato chiede, il mercato inteso come popolo di consumatori, no, voi. A me me ne fregato niente. Il 90% dei nostri risultati derivano dal mindset, punto. E su questo non mi schiedate. Sono anni che studio sta roba ossessivamente ed è così. E a me non me ne frega niente di quello che pensate sia giusto per voi. Io vi do quello che secondo me è giusto per voi. Quindi il mindset, poi anche i sistemi. Tante persone desiderano i sistemi fatti finiti, allora a codice aperto con il metodo scocchierello con la validazione fatta in modo insomma con un po' di filtri comunque ve lo forniamo. Ma non ci basiamo tanto su quello che il mercato vuole perché sennò veramente basterebbe fare un corso sulle cripto. Un servizio segnali di copy trading sui trading system e invece non mi piace quella strada là. Altra cosa, ragazzi io adesso sfocio perché è ripeto il collegamento tra Batsway e me è molto labile confuso e misto ok? Il confronto sociale è pesante da affrontare. Questo perché lo dico perché ciò che vedete sui social non è reale. No ma lo so Francesco non c'è bisogno di come lo dire no fatevelo dire di nuovo non è reale ok? Perché per capire se una cosa è reale voi dovete avere cento di informazioni fatto cento la quantità di informazioni ideale per avere gli elementi per farvi un'opinione i social per forza di cose filtrano perché banalmente vi parlo per me io preferisco mettere uno screenshot di un take profit piuttosto che di uno stop loss anche se non so se avete notato gli metto molto poco post preferisco parlare di un'azienda vincente che di un'azienda perdente ma è normale ok? pensate a farlo per tutti pensate a qualcuno che magari ha meno scopoli di me ok? i social non sono la realtà questo per dire che non dovete assolutamente copiare chi vedete i social e dovete farvi voi la vostra strada ok? io vi posso dare degli strumenti ad esempio ma il percorso poi è vostro cioè facciamo un esempio pratico devo fare trading automatico? dipende eh ma tu fai trading automatico sì ma tu chi sei? quanto capitale hai quanto tempo hai le basi ma poi soprattutto quanto ci vuoi impiegare? quanto ci vuoi credere? quanto sei disposto a metterci? quali sono i tuoi obiettivi? non li posso sapere io li devi sapere tu e non sono i miei sono i tuoi voglio investire sul lungo periodo consigliami la nuova Tesla io ti posso dare degli strumenti per scegliere le azioni ti posso dare degli strumenti per scegliere dei portafogli di lungo termine ok? di ETF ma poi il resto dipende da te dipende veramente dipende da te quindi cerca di sempre fare questo filtro qua tu hai i tuoi tempi sei ciò che sei e non devi per forza copiare le cose che vedi sui social non posso fare a meno di essere sui social perché per comunicare divulgare sono su YouTube sono su Facebook ok? ma tu devi prendere tutto ciò che ti do e farlo tuo contestualizzarlo su di te chi sono io? cosa posso fare? cosa non posso fare? quali sono i miei tempi? sono persone ho fatto un voto di coaching nel 2021 persone un po' terrorizzate perché dopo tre mesi non avevano messo live un sistema la mia domanda primaria è stata ma ci sono difficoltà tecniche non capisci no 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 è che non ho avuto tempo e pazienza non hai avuto tempo se hai capito quel che hai capito hai studiato ma ci mancherebbe vai live dopo sei mesi ma che me frega a me e soprattutto che te frega a te ok? spero sia chiaro questo concetto molto importante non so se dirla questa cosa no non la dico fatemi fare un elogio al team perché una cosa che ho imparato questa è l'ultima è che è importante circondarsi di persone fidate ma non uguali a te perché le persone fidate sono persone con cui puoi avere una relazione con cui puoi parlare ok? quindi non è qualcosa di superficiale non è il rapporto che hai con il barista ok? e non uguali a te perché almeno hai la possibilità di discutere e crescere questa è una cosa cruciale è uno dei principi che dice redaglio no in principio l'indico là perché quel libro questo qua è proprio il principi si chiama? i principi del successo ok? ed è stato molto importante devo essere sincero per me non solo da un punto di vista di BuzzFeed perché senza il team BuzzFeed non esisterebbe ok? senza Gabriele, Simone e Omar BuzzFeed non esisterebbe quindi ma anche personalmente io ho migliorato dei miei approcci nella scrittura dei trading system nella scelta delle azioni negli studi nelle convinzioni perché noi ovviamente parliamo ovviamente di mercati quotidianamente fanno tutti i trading investing quindi ce n'è di ciccia di cui discutere e avere un confronto a livello è molto importante quindi non come possiamo riassumere questa lezione non circondatevi di persone che vi danno ragione circondatevi di persone fidate che hanno la capacità e l'intenzionalità di darvi torto nel momento in cui avete torto così da crescere meglio una cosa secondo me rilevante e noi le applichiamo in due modi con il team ti ripeto senza il team BuzzFeed non esisterebbe questo è un altro fatto e col Big Club per gli studenti in cui uno pubblica non solo cosa ha bisogno cosa non ha bisogno ma cosa fa cosa non fa e il mio obiettivo non è dire bravo vai avanti così è dire dove è sbagliato per poter crescere fine delle cose che ho imparato piani per il 2022 riguardo BuzzFeed sempre più innovazioni e divertimenti mi diverto un casino con BuzzFeed e ci sono un sacco di cose in cantiere anche formalizzazioni di cose che faccio da una vita o miglioramenti investimenti dal punto di vista di analisi e quindi tanta 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 innovazione come abbiamo sempre fatto e come continueremo a fare con una certa dose di divertimento inteso metodo scocchierello per principiato è un metodo super galattico quantistico che se non mi dai letta muori domani un po' di leggerezza perché l'informazione è di qualità nel momento in cui ha qualità intrinseca non da come viene detta quindi e questa è una cosa molto importante quindi BuzzFeed 2022 non si può prevedere il futuro ma abbiamo tante cose in cantiere tante innovazioni tante tante chicche che voglio continuare a portarvi e che mi stimolano molto due per quanto mi riguarda viaggiare ho vari obiettivi probabilmente tornerò negli states da mia sorella ho vari posti che voglio vedere e grazie al lavoro che faccio non vedo l'ora lato trading e investing approfondire la mia conoscenza dell'economia comportamentale ah ma no ma dammi una nuova strategia no ragazzi cioè anche ma una cosa che mi preme sempre tantissimo è accrescere questo tipo di di pilastro ripeto il 90% del vostro successo deriva dall'economia comportamentale dipende dalle vostre decisioni dalle vostre aspettative ok perché ad esempio non tutti hanno delle performance da 30% medio anno con i miei sistemi o con il metodo scocchierello perché dipende dipende da come viene applicato dipende da le scelte che uno fa faccio sempre l'esempio di questo G chiamano G non diciamo un nome completo che nonostante avesse tutte le informazioni continuava a fare degli errori non perché fosse stupido anzi una persona più brillante che io conosca seppur non in maniera super approfondita ma perché aveva tutta una serie di freni rispetto a quello che pensava rispetto alle proprie convinzioni aveva tutta un'idea di ritorno verso la media aveva tutta una media di aspettative sbagliate e che gli impedivano di fare soldi con gli stessi miei sistemi perché a me è andata bene a lui no ok ecco perché dico che l'economia comportamentale è il 90% dei risultati quindi sicuramente continuerò a studiare da quel punto di vista e il penultimo si si dice penultimo continuare educare divulgare formare voglio condividere conoscenze e metodi di apprendimento perché questa è un po' una mia missione sempre abbiamo mille video su youtube questa è una cosa inevitabile ah no ma tu fai solo pagando pagando si ha il pacchetto completo organizzato strutturato sequenziato e con tutte le informazioni cruciali gratis ci sono tutte le informazioni per partire e di contorno su youtube ed è una cosa che mi fa impazzire perché non solo c'è bisogno di informazioni di capire le cose come stanno c'è bisogno di informazioni di qualità e io sono convinto di darvela e questa è una cosa che mi fa molto piacere quindi continuerò a divulgare a informare a spiegare come funzionano alcune cose come funziona l'apprendimento come funzionano alcuni meccanismi non facilmente visibili mi continuo a spiegare il mio percorso come va come non va cosa faccio e questa è una cosa che mi fa molto piacere e in ultimo continueremo a provare ad avere un impatto concreto nella vita delle persone a diversi aspetti a diversi livelli uno fornendo appunto il meglio del nostro sapere e tantissime persone sono contentissime di quello che stiamo facendo li lasciano recensioni positive fanno soldi investono bene ci ringraziano superano le difficoltà dei primi step ad esempio del trading automatico eccetera due portiamo sempre dentro più persone c'è bisogno di un'informazione finanziaria di qualità ok non basata su ciò che si diceva vent'anni fa non basata su ciò che va di moda ma di qualità e in terzo luogo vogliamo impattare sulle vite delle persone dal punto di vista proprio di azienda quindi di impatto sulla società intesa come Italia ciò che c'è intorno quindi abbiamo già fatto un sacco di iniziative di cui non abbiamo parlato c'è questa iniziativa di cui invece stiamo parlando cioè trader contro il gioco contro la ludopatia tema che mi sta a cuore da anni perché due anni fa ho aperto lo sportello antitruffa e come basso vogliamo sempre più impattare anche da questo punto di vista è una sorta di give back non dovuto non mi sento in dovere di far nulla perché non ho sottratto nulla a nessuno anzi sto dando sto dando valore ma proprio per l'impatto di BuzzFeed nella società e quindi siamo molto contenti di questa iniziativa e e basta direi che ho detto tutto è stato un anno ripeto clamorosamente difficile ripeto non fidatevi ciò che vedete sui social eccetera e incredibilmente bello quindi non vedo l'ora di iniziare il nuovo anno non vedo l'ora di continuare a fare il mio mestiere di continuare a tradare continuare a investire continuare ad appassionarmi continuare a studiare e spero ci siate voi anche su questa barca perché è una gran bella barca vi si sta veramente veramente bene e basta lasciate i commenti di quello che pensate o non pensate rispetto a questo compendio del 2021 nella mia testa probabilmente era molto più poetico però va bene così e detto questo vi auguro uno splendido 2022 con tutti i consigli che ho dato sotto traccia durante questo video prendetevi cura di voi i vostri tempi la presenza sociale e lo studio l'approfondimento mi raccomando e ci vediamo l'anno prossimo con un nuovo video ciao e auguri a tutti grazie a tutti